Che succede? Non te ne andrai sulle tue gambe. Non so se l'hai trovato laggiù, ma il Cardinale Maldul ha ordinato agli alti sacerdoti di sigillare la strada alle sue spalle. Mi serve più spirito. Il tuo viaggio finisce qui! Non posso ancora farlo. Ho esaurito lo spirito. Devo attendere un attimo. Mi serve più spirito. Questo gioiello sembra far parte di una chiave. Ci sarebbero altri mezzi. Ho esaurito lo spirito. Devo attendere un attimo. Ho abbastanza spirito. Non posso ancora farlo. Non posso ancora farlo. Non posso ancora farlo. Ho abbastanza spirito. È chiuso a chiave. Devo attendere un attimo. Ho esaurito lo spirito. La luce non può proteggerti qui. Devo attendere un attimo. Non posso ancora farlo. Non posso ancora farlo. Ho esaurito lo spirito. those out! A2-2-3-2-2-2-3-3-4-2-2-3-5-4-2-4-2-3-4-3-4-4-3-4-2-9-u4-3-3-4-4-5-4-3-4-2-4-4-2-3-4-4-4-3-5-4-4-5-4-5-4-4-3-4-3-4-3-4-4-4-3-5-y2-4-3-4-4-4-4-5-1-8-4-G-4-1- Non posso ancora farlo. Non posso ancora farlo. Mohon, 그렇a la tua cmata... ...l'esplendere... 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 Non posso ancora farlo. Non posso ancora farlo. Devo attendere un attimo. Non posso ancora farlo. La sfida. Non posso ancora farlo. Certo. Réalizzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.